In questo video vi parlo della nuova versione del programma Teremino Spectrometer, la versione 3.0. Una volta collegato lo spettroscopio al computer, e questo avviene semplicemente inserendo la spina USB nella porta del computer, la telecamera inclusa nello spettroscopio verrà automaticamente riconosciuta e non bisognerà fare in nessuna installazione. Il nostro programma che abbiamo ricevuto l'ho salvato in una cartella sul disco C, esattamente nella cartella denominata Spec 3 USB, ma il nome non ha importanza, può essere qualunque nome. Ho avviato per la prima volta il programma Teremino Spectrometer, la versione 3.0. Qui vediamo alcune cose importanti del programma, che sono immediatamente da sistemare una volta per tutte per il programma, poi verranno memorizzate e non sarà più necessario rimodificarle. La prima è il nome della camera, che sarà questa Full HD webcam che è inclusa dentro. La seconda è che, così come viene avviato il programma, vede la camera a 640x480 pixel. Noi dobbiamo invece impostare nel programma la corretta dimensione della fotocamera, che è una Full HD. E quindi per fare questo dovremo andare nel pulsante controlli video e qua dentro selezionare in questa finestra, anziché 640, l'ultima voce, 1920x1080. Questi valori verranno rispecchiati poi in questa parte, in cui abbiamo la conferma che la telecamera sta lavorando a piena potenza. Nel pannello di controllo ingressi video, oltre alla possibilità di modificare la dimensione del video, possiamo vedere diversi cursori. Normalmente, utilizzando Spec 3 USB come spettroscopio, possiamo lasciare l'esposizione in automatico. Se volessimo utilizzarlo invece come rifrattometro, dovremmo togliere l'esposizione automatica e impostarla in manuale. Però questo lo vedremo praticamente nel tutorial al video riguardante l'utilizzo delle cuvette. In questo momento noi stiamo utilizzando Spec 3 USB come spettroscopio e vogliamo analizzare un filtro interferenziale per verificarne le capacità e quali luci fa passare e quante questa luce ne passa. E quindi chiudiamo a questo punto il pannello controllo ingressi video, verificando che sia 1920x80 e che l'esposizione sia automatica. Due valori importanti da controllare sono questa e la finestra virtuale dello spettroscopio. Adesso spostiamo che ha ciecato la lampada. E dobbiamo impostare come valore iniziale 0 in questa casella e in questa casella a destra il valore 1000 per avere la massima dimensione dello spettro rilevato. In basso abbiamo la possibilità di visualizzare lo spettro a colori, quindi viene riempito con i colori effettivi e possiamo visualizzare i valori di picco dello spettro, in questo caso lo vediamo sotto, 727 nanometri, 585 nanometri, 483 eccetera. Dobbiamo verificare anche due altri valori che sono la velocità di salita e la velocità di discesa e in basso il valore di filtro. I valori normali saranno il filtro 50 e la velocità di salita e la velocità di discesa pari a 30. Che cosa sono questi valori? Il valore filtro qui in basso dà la reattività del sistema portando il valore a 100 e quindi abbiamo un sistema che reagisce immediatamente a qualunque piccola variazione di luce. Adesso io passo la mano davanti allo spettroscopio e vediamo che la reazione è istantanea al calo di luce. Se io invece lo porto a 0, ecco qua, diciamo il sistema diventa molto lento e adesso io passo la mano sopra e vedete reagisce molto più lentamente. Diciamo che il valore corretto è 50. Come modificare questo valore? In maniera molto semplice posso entrare nella casella qua dentro e scrivere 50 e premere l'invio e quindi imposti il valore. Oppure cliccando nella casella e tenendo premuto il mouse con il clic trascino in alto il mouse e il valore sale o trascino in basso il mouse e il valore scende. Adesso lo ripartiamo a 50. Stessa cosa possiamo farlo con i valori di salita che sale e scende e i valori di discesa che scende e sale. Qui diciamo cosa sono i valori di discesa e di salita. Corrispondono alle impostazioni di lettura dello spettro da parte dello spettroscopio. In pratica con velocità di salita viene fatta la media della luce ricevuta dal sistema tra la lettura attuale e la successiva e così la velocità di discesa nella diminuzione di luce. Portando per esempio la velocità di discesa a valori molto bassi come 10 o addirittura 1 per esempio il sistema accumula tutta la luce ricevuta. Quindi se noi abbiamo un'emissione che è periodica quindi a impulsi noi vedremo probabilmente uno spettro a 0 quando non c'è l'impulso e per un istante avremo lo spettro dell'impulso. Portando velocità di discesa pari a 0 verranno memorizzate e sommate le varie luci ricevute dallo spettroscopio. Diciamo che in modalità normale dobbiamo mantenere i valori 30 come salita, 30 come discesa, 50 in basso come filtro, a destra 1000 e a sinistra inizio X0. Possiamo anche stringere se vogliamo leggermente questo rettangolo arancione che corrisponde alla finestra in cui viene analizzato lo spettro impostando come valore inizio Y, quindi l'altezza di questo rettangolo per esempio lo porto a 40 adesso, quindi si alza un po'. Posso ridurre la dimensione in Y di questo rettangolo per esempio adesso lo porto a 5, quindi digito 5 e otteniamo questo rettangolo più stretto. Questo perché potremmo evitare delle interferenze sopra o sotto lo spettro oppure se possiamo, adesso io sto trascinando in alto questo valore quindi sto addirittura superando il valore dello spettro, quindi sarà troppo e diciamo allargando il più possibile lo spettro avrò una lettura mediata maggiormente su tutta la fenditura perché quella che noi stiamo vedendo questa è la fenditura e l'altezza della fenditura sopra e sotto è dove non c'è luce, quindi lo spettro rimane diventale quindi come facciamo adesso ad utilizzare lo spettroscopio? Noi possiamo, abbiamo detto controlli video, possiamo definire il valore di esposizione, di luminosità, contrasto e normalmente lo lasciamo in automatico, mettendolo all'esposizione in manuale noi possiamo con questo cursore variare l'esposizione della camera e quindi leggere valori migliori o peggiori diciamo dello spettro ricevuto e questo in funzione di cosa vogliamo fare però normalmente se vogliamo rilevare la luce che proviene dall'esterno e quindi fatta passare attraverso un filtro oppure direttamente attraverso una lampadina qui abbiamo una lampadina incandescenza per esempio metterò lo spettro in automatico e vedrò così la luce che sta arrivando e adesso chiudo questo pannello un altro pannello abbiamo immagine dello spettro salverà l'immagine dello spettro, quindi questa parte sottostante in un file che verrà nominato in questo caso come totale noi possiamo chiamarlo lampada per esempio e a questo punto cliccando su immagine spettro il sistema atturerà l'immagine dello spettro la salverà su disco in formato jpeg con qualità 100 può salvarlo anche in formato png, tif, exif, emf, vmf, gif e bnp e posso scegliere anche la qualità normalmente possiamo selezionare 100 e il valoreggio meglio quando viene ripreso l'immagine dello spettro avrò la conferma che il file è stato salvato con un bip qua possiamo invece salvare l'immagine della camera che è questa parte qua e qui invece salviamo l'immagine totale quindi tutta la schermata completa dello spettro quindi si ha la configurazione del dispositivo d'ingresso lo spettro visto attraverso la fenditura e lo spettro elaborato con scrivi data file invece viene scritto un file con i valori letti pixel per pixel dal sensore lungo tutto l'asse orizzontale lungo la fenditura questo mi consente di caricare poi successivamente questo file in un foglio excel per esempio adesso lo scriviamo e lo memorizziamo cos'altro possiamo fare? possiamo con la rotella del mouse selezionare un punto particolare e con la rotella muovere il grafico e vedete che si allarga il grafico davanti a noi e si stringe di conseguenza la fenditura virtuale di elaborazione del grafico quindi fino ad un certo punto vedremo dei pallini che sono effettivamente i singoli pixel che sono letti dalla camera quindi adesso per esempio questo pixel qua che adesso metto sotto il mouse possiamo vedere in basso a sinistra che corrisponde lo vediamo qua sotto quando io muovo il mouse vediamo che siamo a 583, 584, 585 quindi ci muoviamo lentamente lungo il bordo dello spettro 586 e una cosa interessante ci dice anche che quando noi siamo dentro lo spettro a che altezza siamo per esempio qui siamo a 568 e la luce che viene letta dallo spettroscopio in questo punto a questa lutezza tonda è del 57% riferita al 100% della luce in arrivo il valore che io ottengo girando la rotella del mouse quindi stringendo o allargando lo spettro lo vedo qui con inizio x e qua a destra con fine x quindi in pratica io con la rotella del mouse posso vedere ingrandito una parte dello spettro e qua vedo come riferimento la parte a sinistra e la parte a destra che sto guardando che sono questi valori qui in alto che adesso stiamo vedendo posso anche con il mouse trascinare lo spettro verso destra o trascinarlo verso sinistra posso ritorno posso cambiare i valori qua dentro quindi alzo per esempio riduco la parte destra mantenendo ferma a sinistra oppure ingrandisco la parte sinistra o ritorno a zero con la parte sinistra e a destra 1000 quindi diciamo il valore di lettura completa sarà 0 e 1000 a questo punto prendo un filtro semplicemente lo appoggio sopra lo spettroscopio e immediatamente vediamo la luce che passa attraverso questo filtro però dobbiamo fare attenzione che questa luce che noi vediamo e qui vediamo i picchi segnalati perché abbiamo illuminato il pulsante picchi adesso io clicco sul pulsante valli vedremo di conseguenza i punti più bassi registrati dal programma adesso li tolgo un attimo per non disturbare troppo come spettroscopio se vogliamo analizzare questo filtro possiamo farlo in due modi possiamo vedere con la luce attuale che cosa passa da questo filtro possiamo vedere dove sono i picchi per esempio abbiamo un picco di trasmissione intorno ai 697-698 nanometri e abbiamo un vuoto completo qua adesso vediamo come valle a 573 nanometri abbiamo proprio un vuoto completo ognuno di questi quadrati corrisponde a 10 nanometri quindi noi possiamo vedere che qua abbiamo circa da 563 a 593 nanometri abbiamo un vuoto di trasmissione della luce quindi questo filtro sta filtrando la luce in questo momento però ripeto questo filtro che noi vediamo è riferito alla luce attuale quindi adesso tolgo il filtro e rivediamo lo spettro della lampadina così com'è per vedere effettivamente quali frequenze passano a questo filtro indipendentemente dalla luce che utilizziamo perché qualunque lampada che noi utilizziamo seppur a spettro continuo in realtà non emette in tutto lo spettro vediamo che questa lampadina ha incandescenza emette molto chiaramente nel rosso e nell'infrarosso quindi scalda tanto ha un forte picco nel giallo quindi con una luce calda ma nel blu e nell'ultravioletto è completamente assente praticamente la luce di questa lampadina quindi se volessi misurare un filtro cosa fa passare nell'ultravioletto non posso usare questa lampadina perché questa non emette se non pochissimo nell'ultravioletto e nel blu come avviare a questo fatto? semplicemente cliccando sul pulsante riferimento qui in basso riferimento che cosa fa? porta a zero l'emissione di questo spettro quindi crea una lampadina virtuale dove viene esaltata questa parte di frequenze molto deboli e vengono abbassate queste frequenze molto forti in maniera tale di avere una uniformità di frequenze su tutto lo spettro visibile a quel punto mettendo il filtro davanti allo spettroscopio vediamo effettivamente la quantità e la qualità di luce che passa attraverso questo filtro quindi mettendo il filtro semplicemente sopra otteniamo questo risultato adesso tolgo il filtro premo il pulsante riferimento che azzererà tutto il filtro quindi vedremo tutto l'aspetto completamente colorato ecco qua e adesso metto il filtro sopra ed effettivamente vedo che cosa passa attraverso questo filtro quindi vedo che il filtro fa passare quasi tutto il blu una parte di ultravioletto viene bloccata a 347 nanometri il verde lo fa passare completamente c'è un buco a 577 fa passare da 600 a 700 nanometri e poi blocca completamente l'infrarosso vedete? se adesso io tolgo il filtro riotteniamo praticamente lo spettro di riferimento una nota di attenzione se io adesso riprendo lo spettro di riferimento e non faccio niente vediamo che viene riempito tutto lo spettro in questa zona quindi viene riempito però questo spettro siccome vengono sommate le varie frequenze in arrivo e siccome la luce che arriva è comunque variabile per la tensione della lampadina e altro questo spettro di riferimento piano 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 degrada si lovina quindi quando facciamo queste misurazioni dobbiamo essere veloci tra quando premiamo il pulsante di riferimento qui in basso e quando mettiamo il filtro quindi adesso spengo il riferimento riaccendo il riferimento e immediatamente metto il filtro e quindi vedo subito il risultato posso congelare questa elaborazione premendo il pulsante qui in alto run run che cosa fa? congela l'elaborazione dello spettro quindi blocca tutto il sistema e fa un'istantanea sul video praticamente di quello che ha letto in questo momento ovviamente posso salvare l'immagine dello spettro così ottenuta e se io tolgo il filtro che non c'è più ma chiaramente non succede niente perché il run è spinto riaccendo run e quindi rivediamo l'immagine dello spettro normale così come visto dalla camera altre cose interessanti sono il linguaggio la lingua possiamo scegliere come lingua del programma oltre che l'italiano l'inglese il francese lo spagnolo il portoghese il tedesco il giapponese e il cinese nel menu aiuto trovate diverse cose interessanti riguardanti la tecnologia la costruzione aspetti di esempio e istruzioni del programma questo è quanto da sapere per Televino una cosa importante è che non dovete mai utilizzare il pulsante taratura perché vi ricordo lo spettroscopio arriva già pre-tarato di fabbrica quindi è già stato pre-impostato e così analogamente dentro strumenti non dovete mai utilizzare punti di taratura cioè non dovete modificare questa parte in quanto riguarda la taratura ne parleremo poi approfonditamente in una prossima puntata parleremo solamente di taratura e di lampade di calibrazione quindi per ora diciamo non va toccata assolutamente la parte taratura altrimenti rovinereste l'utilizzo dello spettroscope quindi ripetiamo quindi riferimento per azzerare la luce valli e picchi per vedere i valori della massima altezza e la massima e la minima altezza i colori per vedere o meno i colori dentro lo spettroscopio l'inizio x0 fine y1000 i valori di velocità di salita 30 30 e il filtro 50 e a questo punto potete divertirvi a utilizzare lo spettroscopio che può essere utilizzato sia come spettroscopio che come spettrofotometro quindi potete misurare la differenza di trasparenza di due liquidi per esempio dell'acqua senza un liquido di contrasto dell'olio di oliva del vino e di tanti altri va bene vi ringrazio e ci sentiamo per la prossima 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 Grazie.